Siamo qui ad Ise nel nuovo stand di Philips Professional Display Solution per presentarvi come ogni anno tantissime novità nell'ambito di quattro mercati verticali, nello specifico abbiamo introdotto nuovi prodotti per il corporate, per l'education, per il retail e anche nell'ambito dell'hospitality. In particolare quest'anno la parola d'ordine qui in Philips è Collaboration. Abbiamo messo a punto display e soluzioni chiavi in mano nell'ambito della collaboration, dell'education, prodotti fatti ad hoc e tagliati su misura per le esigenze specifiche di questo mercato. Oltre alle soluzioni di Interactive Meeting Display, qui ad Ise presentiamo anche la nostra gramma LED Wall per il mercato retail e la nuova release Mediasuite con Android P a bordo e Netflix integrato.